Sono Graziella Piera, vorrei dire che il grande canale della pace, sono per la pace, è bellissima questa unione della pace con l'arte, arte e con la pace. Molte epoche del passato hanno visto fiorire con la pace grandi artisti, ognuno di noi si deve impegnare perché la pace sia per sempre nella nostra società, ne abbiamo tanto bisogno. L'arte è un mezzo importantissimo per esprimersi e per portare avanti questo discorso. Evviva il canale della pace! Ciao!